Buongiorno a tutti, sono Elena dell'ufficio commerciale RASMA. Con questo nuovo video voglio presentarvi due nuovi importanti articoli dedicati alla gamma dei sistemi di lubrificazione centralizzata. In particolar modo parliamo del sistema progressivo identificato da noi con il codice 30 e sono la pompa alimentata con motore elettrico monofase 230V a corrente alternata oppure la pompa con serbatoio con membrana premigrasso. Prima di entrare nei dettagli vi ricordo che se volete guardare il video sottotitolato basta cliccare sul link in descrizione. Voglio spendere ancora due parole per chi non conoscesse per spiegare cosa sono i sistemi di lubrificazione centralizzata. Questi impianti vanno a lubrificare automaticamente tutti gli organi in movimento e che generano attrito nel settore industriale. Con la lubrificazione automatica infatti si riducono i costi di manutenzione, i tempi di fermo macchina, si va ad allungare la vita dei componenti stessi lubrificati raggiungendoli anche nei punti meno agibili. RASMA ha nella sua gamma quattro tipi di sistemi di lubrificazione centralizzata, il doppia linea, il monolinea, il multimandata e il sistema progressivo. Tornando alle novità annunciate abbiamo qui la pompa con motore elettrico a 230V a corrente alternata, 50 Hz, versione sia per olio sia per grasso, conservatorio da 3, 5, 8 litri, comando remoto e grado di protezione P55. Questa invece è la pompa per lubrificazione con piatto premente. È la soluzione ideale se si vogliono usare grassi particolarmente densi e con questo componente si evita la formazione di sacche d'aria, si può utilizzare la pompa a capovolta, quindi sotto sopra e la fuoriuscita del grasso avviene meccanicamente, oppure se è sicuri comunque di usare tutto il lubrificante contenuto nel serbatoio, anche quello che potrebbe restare il residuo nelle pareti. È disponibile in tre versioni, con comando remoto, con la possibilità di gestire esternamente le tempi di pause e tempi di lavoro, con comando analogico, con la possibilità di gestire i segnali di allarme, le funzioni di reset e gli extracicli, oppure con comando digitale con le funzioni gestibili direttamente dalla scheda integrata nella pompa. È disponibile in tre misure, da 3,5, 6 e 10 litri ed ha un grado di protezione IP64. Il video, come anche tutti i nostri volantini, sono disponibili in versione inglese oppure in spagnolo. Vi invito a seguire anche i nostri canali social, Facebook, LinkedIn e YouTube per restare aggiornati su tutte le nostre novità. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro con i nostri prodotti.